Il Foggia per restare in cima, il Crotone per dimostrare che continuare con Zauli è stata la scelta giusta. Allo Scida tornano ad affrontarsi due squadre che nella scorsa stagione battagliarono a lungo in campionato, in Coppa e soprattutto nei play-off. Cambia molto Zauli che abbandona il 4-2-3-1 per un più concreto 3-5-2 con Tuminello e Gomez davanti. Cudini riconferma il 3-4-1-2 con Schenetti a ridosso di Peralta e Tonin. E dopo appena 8 minuti il Foggia passa. L'azione del gol parte proprio dai piedi di Peralta che serve Tonin, l'attaccante bravo ad anticipare il diretto marcatore e con una zampata fa sé Cudini portando i rossoneri in vantaggio. Il gol galvanizza il Foggia che domina nel palleggio ma non affonda i colpi e col passare dei minuti cresce il Crotone. I padroni di casa ci provano al sedicesimo con un diagonale di Bruzzaniti, palla sul fondo. Al trentaduesimo Crotone nuovamente pericoloso, Bove dalla sinistra mette in area, Bruzzaniti calcia e Nobile salva col piede. Sulla respinta Tuminello colpisce a botta sicura ma Nobile si supera e salva ancora la porta del Foggia. Un minuto dopo il Crotone pareggia ma il gol di Gomez è invalidato dall'assistente per posizione di fuorigioco. Al minuto 36 ci prova Tribuzzi, il pallone si spegne tra le braccia di Nobile. Il forcing dei padroni di casa viene premiato al trentottesimo Vitale-Crossa, Nobile posizionato male e Gomez di testa pareggia i conti. La ripresa si apre con un nuovo brivido per il Foggia. Sul tiro di Petriccione la respinta di Nobile non è perfetta, lo stesso portiere rossonero rimedia poi su Gomez e salva. Il Crotone completa la rimonta al 55esimo. I calabresi ripartono, Gomez vede serve Vitale che a tu per tu con Nobile non sbaglia e realizza il gol del 2-1 dei calabresi. Cudini prova a cambiare, manda dentro Tunkara e Marino per Tonini e Schenetti. Il Foggia va in gol all'ottantesimo con Vezzoni che raccoglie sotto porta il tiro cross di Peralta. Rete invalidata anche questa volta per fuorigioco. All'ottantaquattresimo è il subentrato Vutai, uno degli ex a costringere Nobile la deviazione in calcio d'angolo. È l'ultimo vero sussulto prima del triplice fischio finale che interrompe la striscia positiva del Foggia dopo sette risultati utili. Torna invece a respirare il Crotone.